Musica Sì è stata una bella faticata e davvero difficile oggi è stata una bella corsa poi insomma l'abbiamo fatta gran parte l'abbiamo fatta insieme a Deborah e arrivare qui insomma festeggiare insieme è molto bello quando è così il ciclismo è tutta un'altra cosa perché al di là delle maglie di tutto le solite cose però è molto bello festeggiare insieme l'arrivo, la vittoria mia, l'arrivo suo insomma è bello tutto Deborah questo è un bello spot per il ciclismo Sì specialmente se si coltivano amicizie come queste le gare riescono molto meglio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti